Sì, grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo avuti una breve ma interessante talk con Chester Whitmore e Marcus Gotke su Norma Miller. Quindi, mi parliamo solo di introduzione e qualcosa su Norma. Quindi faremo un talk storico su Norma Miller e io faccio la parte di introduttore presentatore, dirò qualche cosina, poi lascerò la parola a Chester Whitmore e a Marcus Gotke che ci daranno delle testimonianze dirette di prima mano della relazione che ha avuto con Norma Miller. So that we'll talk about the relationship with Norma and then we'll see. Maybe we can discover the things. Forse scopriremo qualcosa di nuovo questa sera, io so. Ok, allora, Norma Miller. C'è qualcuno che non l'ha mai incontrata? Miss Norma Miller? Lei è Norma Miller? Ok. Some of you never met her. So, come di modo non l'ha incontrata? Allora, vi dirò. Norma Miller è una persona che, per quanto riguarda il mondo dell'indiope, del jazz, è stata sul palcoscendo per 80 e passa anni. So, Norma Miller è stata sul palco di più di 80 anni. E lei è l'unica degli originali lindy-hoppers che ha spiegato il lindy-hop, il jazz, il swing, la storia. Sempre. Sempre. Never stop. Lei è l'unica degli originali che ha portato avanti il discorso del ballo, della musica swing, del jazz, senza mai fermarsi durante tutta la sua carriera. e lo ha fatto in diversi modi. Era una persona molto, molto curiosa. Era sempre sede di apprendere. She was a very curious person. She always was searching for something to... to apprend, to comprehend something new, something she wanted to know. She wanted to know everything. She was a really, really curious person. So, she was the first one to write a book about Lindy-hop. E' stata la prima persona a scrivere un libro su Lindy-hop in 1996. And the book is Swinging at the Savory. So, this is the first one. Where they put the Lindy-hop at the center of the stage. Questo è stato il primo libro che ha messo Lindy-hop al centro dell'attenzione. There was something before, talking about Lindy-hop, in 1968. C'è stato qualcos'altro nel 68. Questo libro qui, Jazz Dance. Libro su jazz. Dove si parla brevemente dell Lindy-hop per un capitoletto. Norma Miller è menzionata. Sono menzionati più che altro Al Min's, Leon James. Frankie Manni che non è preso in considerazione qui. Ma parliamo del 68. Quindi Lindy-hop ha già sparito dalle cronache diversi anni. Questo libro è stato scritto nel 1968. Il piccolo ciò ha scritto un capitolato di Lindy-hop. Ma quindi è stato intenzione di chiara Al Min's, Leon James. Intervenuta. Norma appena in un altro capitolato. Frankie Manni non è mai ricavito. and they've been having some argues about this book because Al Minz never mentioned something that maybe was to mention. Eleven years after Norma Miller comes Frankie Manning with his biography. Undici anni dopo Frankie Manning scrive la sua biografia dove si parla dell'indiope chiaramente e la sua storia, la sua avventura. Questi libri sono complementari perché Norma e Frankie non sono stati sempre insieme, facevano parte di diversi gruppi, per esempio Frankie era in Australia con un gruppo, quindi sono stati diversi mesi, nel frattempo succedeva qualcos'altro a New York e viceversa Frankie era a New York e invece Norma Miller era in Florida scusate, era in California a fare un tour e stava fuori diversi mesi come quando è andata in Europa per la prima volta e quindi è stata fuori per sei, otto mesi. Quindi leggere tutte e due è molto importante per avere una visione più completa. Quindi è molto importante leggere tutti, perché Norma e Frankie non erano sempre insieme, quindi erano parte di diversi gruppi, quindi erano parte di diversi gruppi, quindi erano parte di diversi gruppi. Quindi erano tutti mesi da New York e qualcosa stavano, e Frankie era in Australia e Norma era in New York, o Frankie era in New York e Norma era in California, quindi erano alcune parti che non erano per la prima volta. Si scrivono alcuni, ma ci sono alcuni che hanno detto. ci sono delle parti mancanti o se c'è qualche cosa sono parti che poi gli sono state raccontate in quanto loro non c'erano, quindi è più importante avere una lettura con notizie di prima mano. Il punto fondamentale di Norma era che lei è sempre stata curiosa. nella sua carriera artistica, quindi ha sempre voluto lasciare una testimonianza di sé. She always wanted to leave a witness of her, a testimony. And some of her last words were All I care about is that you don't forget us talking about the wildest indie offers, talking about herself and Frankie Manning. Una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche è stata quella di dire tutto quello che mi interessa a questo punto della mia vita è che voi non vi dimentichiate di noi, cioè di quello che abbiamo fatto come Frankie, Norma e Weiss, quindi lei ci teneva a lasciare scritto, tant'è che questo è stato non il suo primo libro, perché il primo che ha scritto è questo qui, l'enciclovedia della commedia afroamericana, questa è stata la Red Fox Encyclopedia o Black Humor, che scritta nel 70's, questo è stato il primo libro. La scritta, non c'era internet, non computer, quindi lei ha speso mesi e mesi di ricerche all'interno dell'interno dell'interno pubblico. in New York e anche in altri posti, per mettere giù questa eciclovedia con tutti i grandi cabaretisti dell'epoca. Quindi questo è stato il suo primo libro, già quando aveva smesso di danzare. e lei ha iniziato a scrivere. La sua vita era cambiata e lei ha iniziato a scrivere. e poi c'è questo libro per i bambini, che è una short versione per i bambini, di Swing in ete Savoia, che è stato in ete Savoia, che è venuto dopo. e lei ha scritto in 2009, Swing Baby Swing, in 2009 poi ha scritto Swing Baby Swing. questo è un libro molto importante perché qui puoi trovare tutto ciò che succede durante gli anni 50 e 60 e su altre danze, che vengono dall'Indiope. Quindi qui ci sono i tasselli mancanti per quello che riguarda il periodo degli anni 50, 60, 70 dove l'Indiope sembrava sparito ma non era così, si era trasformato. quindi qui ci sono tutte le testimonianze. Poi lei nella sua vita incontra un regista che si chiama John B. Farr. Then she met in Las Vegas, when she was in Las Vegas, she met John B. Farr, a filmmaker, and she told her I'm gonna make you a star, possibly in a movie, e lui gli disse farò di te una star e ti metterò, farò un film su di te. e Conte, e lei le ha risposto she told her bullshit. E lei le ha risposto che stava cazzata. Invece l'ha fatto, he made it, he made it, he made it. First of all, a movie named Captiva, with Norma not performing, just acting. e quindi ha fatto questo film intitolato Captiva Island, l'isola di Captiva, dove lei non fa nulla che abbia a che fare con il ballo, con la musica, fa l'attrice proprio. e, and she, then she wrote a book about her story with John B. Farr. But there is, of course, it's full of swing dates. Naturalmente è pieno sempre di riferimenti swing, and John B. Farr then made the documentary about her life, Queen of Swing. Queen of Swing. John B. Farr ha fatto questo documento sulla sua vita, Queen of Swing. And, that we made, as a Billy, Italian Swing Dance Academy and Billy Bross Swing Orchestra, we began to work with her in 2014. Nel 2014, come in Italia Spendenza Academy in Billy Bross Swing Orchestra abbiamo iniziato a lavorare con Norma e Norma ha detto, ok, adesso, posso cantare le canzoni che ho scritto, nel frattempo lei aveva scritto le canzoni, in the meantime she wrote some songs and she said, I can sing, I wanna sing my songs. So, we made the record with her songs. Così abbiamo fatto due cd con le sue canzoni e, most of all, la cosa più importante, lei è tornata sul bar when she was back on stage singing and performing in 1996, 1997, 1998 years e tornata sul bar in 1996, 1997, 1998 anni e, 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 and that's her story and she was always planning something new. Every morning in our house and Norma, how are you? I'm fine, we gotta do this, we gotta do that, ok. so, that's what's the best thing that she said in the morning when she was at home and she was working together and said, buongiorno, no, ma come stai, bene, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare quest'altra, quindi lei era sempre in avanti, sempre in avanti con i nuovi progetti. e Norma Miller, well, last thing, Norma Miller is one of the few Wilde's Lindy Opers, original Wilde's Lindy Opers that are mentioned on several books e lei è una delle boche che ha ricevuto diverse menzioni su libri di altri personaggi a cominciare dal suo amato Kao Mbessi, this is the biography of Kao Mbessi, Norma Miller is named here two times, they worked together in the fifties, so it was Norma Miller and her dancers, qui si parla di Norma Miller con i suoi ballerini negli anni cinquanta, quindi dopo, dopo la guerra, questo è un altro capitolo della sua storia. Questo è un altro libro, Class Act di Charlie Hopkins, questo è un grande coreografo ballerino e lui spende diverse pagine parlando di Norma Miller, menziona chiaramente anche Franky Manning e gli altri Wilde's Lindy Opers, ma su Norma Miller dà delle nozioni, delle delucidazioni molto molto precise. quindi diceva, qui su questo libro ci sono cose che chi ha conosciuto Norma già conoscevano e quelli che avevano già conosciuto Norma che la conoscevano lo sanno, cioè che lei era molto precisa, che era molto precisa, che era molto stretta, che era sempre looking per la perfezione e perché veniva dal Wilde's Lindy Opers, dalla scuola Leonard Reed in school lei veniva dal scuole dove dovevi essere un professionista al cento per cento, se no non se ne faceva niente. E qui, here, he wrote things about it. Another great chapter is on the Buck Layton, Trump, the player of the Calombesi Orchestra and band leader and I wanna I wanna read you something. Qui c'è un'altra testimonianza di Buck Layton che è un è stato un trombettista della Calombesi Orchestra ed era è stato anche un direttore d'orchestra e c'è una testimonianza molto 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 bella perché he says that they entered this Calombesi Orchestra at Savoy for the first time and he met the Wilde's Lindy Opers and he says normally there was ok after the Apollo we were booked into the Savoy Ballroom this is 1937 questo è 1937 Buck Layton says when we first saw the Savoy Ballroom we were thrilling but nothing could be more thrilling than playing there there were always two or three prominent bands on the bandstands and the famous Lindy Opers were rack cutting every night quindi dice la prima volta che sono andati a Savoy come band sono rimasti impressionati perché era un locale pazzesco c'erano ogni ogni sera c'erano due o tre band che suonavano e c'erano e c'erano i Lindy Opers e poi dice Norma Miller was the leader of the Lindy Opers and you can't believe me some of the gymnastic generations that they did could upgrade to any athletic show on any continent e qui lui dice Norma Miller era leader dei whitest Lindy Opers e una dichiarazione forte una dichiarazione forte this is a strong declaration she was leader of the white Indian Opers that's important and the last book about Norma Miller e l'ultimo libro su Norma Miller comes from Germany veda la Germania è un libro sulle ricette Ossia 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 Marco ci mi corregge giustamente è un libro sulle ricette quindi ci sono intervistati diversi personaggi del mondo dello swing qui sopra e chiaramente non poteva mancare Norma Miller e secondo voi qual'è la ricetta che lei ha dato agli autori del libro su Norma Miller Norma Miller la sua ricetta pollo fritto guardate fried chicken and motto if you don't eat swing you don't eat fried chicken e se non mi piace lo swing non mi piace neanche il pollo fritto che era Norma Miller non ciao ciao Oh man, that's a lot, that's notating what you have left, Norma Miller. All I can tell you is that she left a legacy and a lot of legacy that we are doing right now in the world of swing. I met her originally in 1976, I met Norma, I was working on a television show. I was a gripper in those days, moving the cameras and the lights, and I was dancing, but I was doing historical dancing, jazz dancing, and there's this comedian, there was a show called The Richard Pryor Show, they were called Comedy Sitcoms, they were like San Bernardino, Red Fox, all the comedies, and all the world's greatest comedians of that time, of black humor and television. Norma was in the midst of all of that at that time, and she was on the set Tuesday where Richard Pryor, and the scene was who could be the best drunk in a bar, who could get drunk more toasted, and she was in that scene. And the guy said, you're in the dance field, you need to go that way. I said, who's that? Norma Miller, I thought, you know, who? I kind of couldn't realize it. And I walked up and talked to her, and we introduced ourselves, and she said, you dance, huh? Yeah, let me see what you do. You know, first of all, a lot of the dancers do it around you. Can you do a tinestep? A lot of people didn't know how to do a tinestep. I knew a tinestep, but a lot of people didn't know, because times has changed during the 60s and the 70s, because contemporary dancing at the time was usually the Motown thing, you know. the jury, and disco. Charlie Atkins. Charlie Atkins changed that, that whole place in the Motown, and the doo-wop groups called vocal choreographies at that time. Meaning, taking vernacular jazz as beating the vernacular of that time period. Norma was in the list of that time period. And also, so you have to learn all those forms of dances. And I, luckily I didn't know a Chinese school before that one got home. So, we became great friends. She talked about swing dancing, and then we have to say, you need to learn how to swing. I was running around trying to learn how to swing, but I didn't know. My personal teacher in swing was Archie Savage. And you can see of those who are Bumpa, that was Jam in the Blues, in 1944, with Maria Pryor. Ok. I'm just going to go. Lui ha incontrato per la prima volta Norma nel 67, 1967. Ok. Si sono incontrati con... Norma stava lavorando con Richard Pryor, un cabaretista dell'epoca, molto famoso. Tu ora lo hai. E Norma, quando si sono incontrati, ha chiesto a lui, la prima cosa che ha chiesto a lui, si dice, fammi vedere un time step. Un time step è un passo di jazz fondamentale, di jazz. Ci riferiamo a quello degli anni 20, che negli anni 60, 70 poi è stato cambiato, è stato variato a seguito di, grazie anche a Charlie Howl Kids, al Modern Jazz che è arrivato, insomma, per me è un po' di cose. Quindi lei l'ha subito messo sotto, fammi vedere se sai ballare, se sai fare questa cosa qui. Lui la sa cosa fare. E lui aveva iniziato a ballare con Archie Savage, il suo primo insegnante, stato che quello è presente come ballerino nel filmato Jam in the Blues. So, those styles of dances were vernacular at that time. The style of jazz I was working with, as Norma would say, I worked with Maria Bryan, and also the Broadway show, never made it to Broadway. It was called Jumping for Joy, Duke Ellington, Duke Ellington. And I had a chance to work with a lot of them great, which Norma really was the second choreographer that revised it in the 1950s. So, I had a chance to work, but then I started working with her, and she started teaching me more steps. Archie Savage was more Afro-Cuban, and he had, you know, he had delineated, but I got more out of Norma, and those who work with Norma, you know them. She teaches, but she doesn't teach that we regular teach. Some instructors have patience, and some don't. But that's not the reason I'm a bad teacher. Some can teach, and some can execute. She knows if you do something, and she watches you, she can take you and mold you. Okay, now do that step. No, do it like this. Then she start throwing all kinds of techniques and words and langos, and I didn't, I didn't, at that time I didn't understand. I just knew you have to do it. In order to get it, you have to do it. She was like, spin it out, do it. You gotta spin it out and spin it right back at her. Then she starts giving me more and more. But that comes from her teacher. And he started working with Norma Miller, thanks to the work he did with the orchestra of Duke Ellington, with which Norma had already worked in the revista Jump for Joy in the 1950s. And then Norma had started giving him the nociones of ball. But Norma was not a classic teacher. Norma said always, I work with professionals. If you are a professional, you come to me and I can teach you something. If you are not a professional, you can't help you. Because you already have something to do. And so it's been for him, because his method of teaching was also violent. Once he realized that you could do it, he had to do it with nociones, one behind the other, and he had to do it with no means to do it. He had to do it with no means to do it. But if you didn't understand it, he said okay, maybe it will pass when you are growing. He was an teacher, he was really hard. to do it with no means to do it with no means to do it. Just like you said. But from there we became great friends, because I was bringing back a lot of her great people. Norma was, like I said, ball fire. And not knowing who her teacher was. because a lot of people asked, you know, she did Lenny and everything, but why? She kept going and creating, because her dance teacher was the one and only, Leonard Reed, the creator of the Shipshack. Leonard Reed and Willie Bryant. And those who worked with Leonard, Leonard, Leonard is faster than Norma. He was the only one in our Norma goes, No, you're not trying to write. Do it again. Leonard isn't. Just think about, he's, that's him. That's Leonard Reed. He could sing, dance, he writes, orchestrates, he trains vocalists, comedy, puts shows together. And he was the only one that, that nailed Norma down, and that's where Norma gets that mentality of, spitting back out. Well, tutto questo veniva dalla scuola di Leonard Reed, che è stato un grande coreografo, ed era così. Quindi Norma ha lavorato con lui, e ha mutuato il suo insegnamento. Leonard Reed, che poi è diventato anche, eh, un cabaretista, tant'è che è menzionato qui nel libro di cabaretista. And from there, Norma, I became great friends, but I started creating, um, different companies. She was with me when we started my first company in the mid, uh, early 70's, at that time, and it was called the BBJ, the Black Ballet Jazz Company. And that was the first company that toured the world, did vernacular jazz dance, in this one. We traveled, we traveled, and she was behind me, was Leonard Reed, Fayard Nicholas, uh, let's see, who else was on there, uh, and Archie was still around, Archie Savage was still around, Maria Pastore, uh, Catherine Dunn, uh, Clarence Lanton, and Frenchie, uh, Pineapple Jackson. These are names that were all in the bodybuilding, the Cotton Club era, uh, at that time, that we did different forms of dances. And we had a company, BBJ, was a dance company. we did, uh, 33 dance numbers, back to back, two hours, in 17 minutes show, and we toured the world 27 times. What was the year? The year was, we started, the touring was 1979. We started in 1972, about 75, but Norma came in 1976. Okay. Lui conosce la compagnia di ballo, che era la BBJ, Black Ballet Jazz. Nel 1972 fu messa in piedi questa compagnia, nel 76 è arrivata Norma a dare una mano, e nel, eh, eh, when you started touring? No, we started, Nel 1979 hanno cominciato a fare i tour mondiali, loro erano capaci di eh, tenere uno spettacolo di due ore e passa, con 33 numeri diversi, 33 performance diverse di ballo, e tutto era su, basato sul jazz pentapolare, quindi c'era, c'era tutta, tutta quella storia che, negli anni settanta, già si era persa, era già sparita. E, oltre a Norma, c'erano tutta una serie di personaggi, di nomi che ha citato lui prima, che venivano dall'era del Cotton Club, quindi dagli anni venti e dagli anni trenta, quindi, i creatori originali. e, 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 We were ambassadors in Greece, Yugoslavia, Bulgaria, Hong Kong, Italy, yes, ok, yes, that's right, I was in Italy, yes, I got some, I still find television shows from that day, but we did a lot of different things, and it got me into what we call into the 80s when we started doing retro screen, started coming out. And then me and Norma got back together in the mid 80s in the Cat Club in New York City, and I was touring in, what's that, Scottish, Edinburgh Festival, and that's when the swing phrase was coming back, when we called, it was coming back, it was going back all through Europe, coming back, and I was glad to see that, because I was like, wow, now, because it almost seemed like you're the only person who liked the style of music, they're doing it, but now, they're starting to come back, you know, and I started singing, and that's what I was invited to come to Harangue, Harangue at that time, I met a lot of great people up from, what's that, Terry Monaghan? Terry Monaghan, Terry Monaghan, a lot of people from, and stuff, and when I got to Harangue, I met a lot of other teachers who were doing incredible dance, I was glad to see, oh wow, they're doing what they did, oh, they're doing job, oh, they're doing, oh, Charleston, oh, oh my goodness, I mean, and all I did was verify what I was doing, notating, and being around, and then Norma was there, and I got a chance to hang out with Frankie, you know, and then Frankie, you know, Don Hampton, and a lot of other great dancers, and then we started to connect, I started getting Frankie connected with people in Hollywood, like the Step Brothers, and people that worked with Baby Lawrence, and these are names in history books that you, that were still alive at that time, and the newcomers, and the new great instructors that were carrying on after these people that were learning, and like, you know, you look at all these books, look at all these books, my God, leaving what you learn a legacy and stuff, so this is part of, you know, I'm just saying, as an instructor, or a teacher, or a historian, you have to do that too, and stuff, and you have to leave what you know, so you carry on to the next generation, next power dancers, and stuff, and that's why I met a lot of them, I met this real crazy guy, man, you know, who's doing stuff, and his name is Marcus, I don't know, but this guy, this guy, I saw when I first met him, in the revolver, I got there, have you ever seen cartoons, Dennis? Yeah. The ladies go, and that's, that's why, that's why, I saw human cartoons, the ladies really moving that fast, that was Marcus. Yeah, 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 yeah. Okay, really, you mean, a certain point, to this group, of, who, who, he went down to World Cup, so, he, he went to Italy, and he. he, got to, got to, with us the. THE. He, at the big, the, I mean, he, Fred, you know, go to cave New York's Queen Dance Society was formed in 1985, nel 1985 formata la prima Sweet Dance Society, che era New York's Queen Dance Society, e quindi da lì e comincia Frankie, Frankie Manning è venuto ad Errang, gli svedesi avevano creato questo camp in un paesino sperduto in mezzo ai posti della Svezia, piccolo paese, poi questo festival l'ha preso sempre più piede e è diventato quello che tutto è, l'appuntamento più importante a livello mondiale, dove lui è andato e oltre norma ha avuto la possibilità di conoscere Frankie, Dunhampton e tanti altri insegnanti e quindi vedere che questi stili che lui conosceva stavano tornando nuovamente quindi grazie alla musica swing che ritornava in auge, ecco che arrivavano tutti questi stili e lì a un certo punto all'interno di questo festival ha incontrato una coppia di ballerini che si muovevano le gambe in una maniera talmente veloce che sembravano dei cartoni animati e di questi ballerini erano Barbel Koffer e Marcus Kocka grazie grazie Barbel e mi mette Norma per la prima volta in 1992 quindi era molto più tardi ma ancora più tardi ma ancora più tardi ma ancora più tardi perché era un momento in cui lindyhop non era ancora più reale c'era un pochettino e ci stavano in England e ci stavano in New York in L.A. ma anche in New York ma anche in L.A. ma tutti stavano e tutti avevano questare e ci stavano iniziare per i nostri stai e ci stavano e ci stavano anche in Haringe e ci stavano in 1991 per la prima volta perché ci stavano in cui sono stati che venivano ad una bambina bambina e ci stavano e ci stavano in alcuni stavano che si stavano in alcuni stavano perché le film ma non si stavano but noi non ho capito perché in Buggie in cui si stavano ogni volta che si stavano in cui non, non, non non, non non, non non, non e poi ci stavano e poi ci stavano il primo giorno che stavano che stavano stavano e noi stavano ma attravo e ci stavano a fare la Haringe danzcan e quindi ci stavano che vi stavano so we know this movie Elsa Poppins, the German version of it, and the guy who pulls the lady in the back and says, Oh yeah, my favorite scene, he's teaching in Sweden. Wow! This was like the thing to go. So in 1991 we were eight people driving up with the car to Sweden for 34 hours just to be there and meet Frankie. and so we met Frankie there and this was really our start into Lindy Hop and there was also one dancer then actually coming shortly after to Sweden was Rob Van Haren and Rob was actually so many people don't know about him but he was the one who was connecting a lot of the people finding a lot of the original dancers and so he came to Munich in January we did a workshop with him it was the first time we paid someone for teaching classes and he talked about and invited us and so in 92, Berlin, we were the first time we went to America so we stayed one week in New York and there we had Frankie and many of the other dancers we went to Harlem where everything happened and then we went another week to LA and so Rob introduced us to Irene Thomas she's one of the white dancers from the West Coast she's in Groovy Movie the girl in the center next to Jean and then he also said yeah, he has contact to Norma Miller and said, wow and Norma at this time was working in Vegas and she had her own comedy show so we actually drove with the car six hours to Vegas and it was interesting because it was Rob's old Honda you may still know it which has one million miles on it and we had this very special air condition system called 4W80 four open windows 80 miles an hour going to Vegas in the heat you know with no air condition and this was our experience and then we actually met Norma at 3 a.m. in the morning after she finished the show so at this time in Vegas we had all these buffets you know like $3.99 all you can eat and so we went there and met Norma at the buffet place after her show and it was the first time we got to know her and it was like crazy you know because we saw the movies and everything we met Frankie now before but now Norma and we did not know her you know it was like a stranger to us but kind of we knew her but we didn't know her and I remember so much the first conversation we had so she was there and says okay we saw her oh we're dancing so what do you dance to? and we said oh yeah we dance to you know we dance through 50s and boogie woogie and rhythm and blues and I wanted to say swing and she oh honey you can tell me what you want but it doesn't swing so this was the very first introduction to Norma I knew it yeah Norma was a caliber was a character and it was just so special and it was interesting because we were sitting there talking to her and it was really really interesting and then we drove her home to her place and actually she invited us to go into the home and she showed us the first handwritten manuscript papers from her book so at this time it was not published it took two years more before she published it and it was interesting because shortly after was Frankie's 80s anniversary it was the first day in New York which was the first time that actually all these different groups from the world actually came together I think this was one of the biggest melting pots because you have all the Swedish people you have the people from England now you have the people from Germany who started to build something up the people from L.A. the people from New York and Ryan said it once it had this feeling you come together oh you Lindy too oh oh there's another group oh you do Lindy too and think about this was before internet really this was before yeah email starting no Facebook no social media so you did not know about these other people if you did not have been there and shortly after you know it started with like MySpace if you remember this means we are all that's a long time ago long time ago AOL you know you got me so it was a time when actually this social email and interconnection of the internet started and I think this was a major push because suddenly all these different groups were able to connect and at Frankie you know Norma was there many of the other dancers who were still alive was there I didn't know that what's his name again the white Lindy Hopper from white Lindy Hoppers Herbert I think yeah he was there and I didn't know about it never met him yeah it was really really strange but at this place you know everyone was there and there was the jam and now Babylon we jumped in and we danced all this crazy shit and people said what these people you know and yeah and this is how we got to know Norma and then we saw her at different events every time again and met her and her rang of course in LA and all the different events where she was and then we started before we did Boogie Man and then we also invited her and we created this actually statue called Frankie Manning Award we started in giveaway for people who did a lot for the scene so Frankie was the first one who got it and a few years later Norma got it so we brought it because Norma couldn't come we brought it to her and gave it to her and then we started Rock the Swing after we came back from LA and yeah we had Norma there a few times and this was like amazing and now the first time we had Norma there because we didn't know we never worked with her and she was in the back sitting a little bit grumpy and we didn't know she wants to be she wants to be taught this is the time you be there this is what you do I learned it quickly next time Norma this is what we do this is where you're there oh thanks amazing amazing organization and she was super happy and she was super happy and it was always funny because when Norma was there she always talked about oh they don't have the beat they don't have the rhythm ah they don't seem to fast they don't seem to fast and she made all these comments it was so funny we had the fast beat contest everyone loved it Norma hated it oh no this is so bad what they do no they're not in the timing and whatever and then they walked over and said Norma I remember think about you know these are young people can you imagine there's a young girl 12 years old just jumping around having fun reminding her about her youth and it was good but last time she was there the last year actually she saw the performances and especially the movie team from France because they did something new and Norma wanted to see something new she said yeah it's cool when you all copy what we do but I want you to do something different don't copy just do something new do something different and she saw this and said oh this was she was so happy finally they got the beat I did my work now I can go don't feliz then I species shit so thank you thank you thanks so in 1990 there were already thing in Manaco there were already there were in manaco even but stanno, loro erano già in contatto con Frankie Manning e gli fanno vedere dei passi di Indie Hop, quindi per loro si apre un altro mondo e l'anno successivo vanno ad Erwank dove cominciano a incontrare tutte le altre persone e quindi capiscono la differenza effettivamente come è tra l'Indie Hop e il Buggy Buggy e soprattutto vedono riescono a capire come si ballava all'epoca perché ci provavano ma i conti non tornavano guardando i video di Elza Poppi contando i sei passi i sei tempi loro facevano otto magari i sei tempi non gli tornavano i conti non riuscivano mai a quadrare quindi alla fine lasciavano perdere e quindi andando avanti poi l'anno successivo ho incontrato Norman Miller sono andati negli Stati Uniti e hanno incontrato diversi personaggi sono andati sapevano di Norman Miller nel frattempo ho incontrato Frankie Manning sapevano dell'esistenza di Norman Miller non l'avano mai incontrata sono andati a Las Vegas dove lei faceva le sue performance negli anni 90 e l'hanno incontrata erano le 3 del mattino Norma aveva appena finito il suo show alle 3 del mattino e stava lì a mangiare le 3 del mattino si sono incontrati con Norman e hanno cominciato a chiacchierare e piano piano è nata questa altra bella interessante relazione che ha portato loro che erano negli Stati Uniti ad un incontro quando c'è stato l'ottantesimo compleanno di Frankie Manning dove si sono è stato il primo evento a livello internazionale della nuova era dell'Indiop perché da lì sono arrivati gruppi dalla Svezia gruppi dall'Inghilterra dove già aveva presso piedi l'Indiop sono arrivati loro dalla Germania e ballerini di l'Indiop da altre città degli Stati Uniti si sono incontrati non esisteva internet quindi era qualche cosa già di eccezionale incontrare tanta gente che parlava l'Indiop di cui tu non sapevi nulla che non c'era modo di sapere poi dopo è arrivato internet è stato molto più facile cementare il tutto però all'inizio è stata un'esperienza molto molto esaltante e molto bella poi loro con la loro scuola hanno hanno messo in piedi dei premi dei riconoscimenti e hanno dato il primo a Frankie Manning il secondo a Norma Mill finalmente hanno messo su il festival il rabbit swing e sono riusciti ad invitare Norma Miller a farla venire e con il suo modo sempre franco e diretto quando ha iniziato a vedere i ballerini perché lì si ballava all'epoca era molto sviluppato e quindi lei diceva non c'è non c'è il beat non c'è non c'è lo swing non va bene quindi i suoi commenti erano tutti negativi però poi Marcos l'ha riportato e le ha detto ma guarda questi sono dopo che aveva preso riusciti a prendere un po' di confidenza con Norma perché potevi dirlo questi sono tutti ragazzi molto giovani e quindi hanno entusiasmo tu ti ricordi per caso di una ragazzina dodicenne che ha iniziato a ballare con tanto entusiasmo allora lì si è aperta e si è rilassata Norma e poi sono andati avanti si sono incontrati tantissime volte e l'ultima volta che Norma è andata which year was 2018 the last time Norma came to Rocket Swing nel 2018 nel febbraio 2018 è stata l'ultima apparizione di Norma Miller al Rocket Swing Festival e lei lì ha espresso tutto il suo apprezzamento per questi ballerini soprattutto un gruppo di ballerini di Buki Buki che era venuto dalla Francia perché avevano messo dentro qualche cosa di nuovo sempre più collegato all'indio nel frattempo ha preso piedi parliamo del 2018 quindi siamo in tempi recenti e lei ha detto finalmente vedo qualcosa di nuovo perché una cosa che Norma ci ha ripetuto diverse volte Norma used to say told us several times she told us that I I don't I don't enjoy too much watching other people dancing and doing the same things that we were doing 60-70 years ago there is nothing new the same steps do something different create something new questo era quello che Norma diceva quando veniva agli eventi ce lo diceva a noi amici intimi io non mi diverto a vedere il social dance in ballo perché vedo fare le stesse cose per riproporre le stesse cose che facevamo noi 60-70 anni fa voi state facendo quello che noi già abbiamo fatto 60 anni fa quindi non è che mi faccia impazzire questa cosa fate qualcosa di nuovo create dei nuovi passi fate qualcosa fateci vedere e l'ultima volta a Monaco successe questo e lei disse sì finalmente il lavoro che abbiamo fatto ha portato a creare qualcosa di nuovo e quindi lei è stata soddisfatta di questa ultima esibizione che ha visto a Monaco I would like to add two more things to it one is just a very short one about her book at Frankie 80 it was in the hotel there was a murder and so yeah and Norma came have you heard about it it was a murder oh so exciting I have to put this in my book è vero quando ci fu l'ottantesimo comprando di Frankie Manning erano in questo hotel e ci fu un omicidio all'interno dell'hotel e Norma andò e disse a tutti quanti che era eccitata nel sentito di questo stato omicidio bellissimo devo scrivere qualcosa e devo metterlo nel mio libro ed è vero perché Norma questa cosa ce l'ha detta tantissime volte che lei voleva scrivere un libro dove ci doveva mettere dentro questa cena nella flatesta era già pronto il libro quindi come dicevo all'inizio lei era sempre sempre continuamente in movimento il suo cervello non si fermava ma era istancabile People cared for all the dancers. Norma ha teus in my eyes now. But she says he was right and now fully understands it. And Norma, I think, in her early life, all this bad experience. And now in his later life, she got so much good experience. So you taking care of her, all the people around the world taking care of her and respecting her. And I think this changed a lot. Actually, in one of the songs, she sings about it, how everything changed the realm. But I want to finish this one, maybe before you can translate, but I want to finish this one with some nice, nice, interesting, but still funny story that happened in Rocket Swing. Ok, prima di lei studia di un'ultima storiella che ci racconterà un aneddoto. Praticamente lui dice c'è una differenza, c'è qualcosa di fondamentale che riguarda sia Norma che Frenkie. Cioè che loro spesso si trovavano a effettuare degli spettacoli nel sud degli Stati Uniti, dove il razzismo era molto forte. Parliamo degli anni 30, non il razzismo che può esserci, che c'è tuttora negli Stati Uniti, non è quasi che c'è tuttora negli Stati Uniti, ma all'epoca era ancora legalizzato, lasciatevelo dire, era legalizzato. E quindi hanno avuto delle esperienze molto dure, pesanti, esperienze che trovate sui libri. You can find those experiences, strong experiences in the books of every black artist, afroamerican artist. Sui libri di qualsiasi artista afroamericano, artista nero, voi trovate menzionati a queste esperienze, sono veramente dure. È veramente duro leggerle, è veramente toccante. Capire che cosa hanno dovuto passare queste persone per esprimere la propria gioia di vivere, portare avanti l'arte, la musica, i musicisti, i ballerini, chiunque, i cabarettisti, qualcosa di veramente incredibile. Però Frenchi aveva un carattere diverso rispetto a Norma. Frenchi era più allegro, gioviale, vedeva sempre il buono dappertutto. Mentre Norma era un carattere più spigoloso. Anche se non parlava apertamente di queste esperienze con tutti quanti, non le dicevano, se le teneva per sé, ma ne ha vissute, ne ha vissute tante, sono state toccanti anche per lei. E lui si è trovato, anche nell'ultima volta che è stata Norma qui a Pescara nel 2018, sempre allo Swing on the Beach Festival, e in albergo stavano parlando e Norma gli ha detto io all'inizio questa cosa nota e non ero d'accordo, non capivo perché Frenchi fosse venuto in Europa, in Unità Errang e poi in un resto d'Europa, ad insegnare ai ragazzi bianchi l'Indiop perché sta facendo questa cosa qui. E loro ne hanno discusso tra di loro. Poi, alla fine, nel 2018, e anzi prima, quando c'è stato il Frenchi 100, nel 2014, nel 2014, il Frenchi 100 che si è venuto negli Stati Uniti, e lei ha visto tutti gli appassionati, tutti gli insegnanti che venivano da tutto il mondo, ci sono i video, li potete vederli, ha detto, ha messo Frenchi, aveva ragione, ha fatto un grande lavoro, quindi dobbiamo ringraziare lui. E questa è una cosa che aggiungo io, quando è morto Frenchi, Norma si è fatta a carico di quello che era il ruolo di Frenchi come ambasciatore dell'Indiop, ha smussato molti dei suoi angoli ed è andata in giro per il mondo a portare, a diffondere l'Indiop, a parlare della musica sui, come faceva Frenchi prima, e lei non faceva. Quindi si è calata nella parte e dice, io sono l'ultima, adesso tocca a me. e io voglio dire qualcosa che quando Frenchi passi, Norma si è fatta la responsabilità di essere l'ultima, e lei dice, ok, ora è up a me per essere l'ambasciatore di Livio e di Svignosi. E si è iniziato a tourare, e iniziò a cutti alcuni angoli di la sua caratteristica, e si è iniziato a spiegare, si è iniziato a spiegare, fino alla fine, lei è iniziò e si è iniziò. Una storia che vorrei dire, perché è così interessante, è anche più interessante, in cui si è iniziato a tutti i persone, in cui si è iniziato, in cui si è iniziato, in cui si è iniziato a loro vita, e non solo, oh, sì, in cui si è iniziato, in cui si è iniziato a tutti i nostri spessi. E perché in 2015, in one year after 2100, we had our 10th anniversary for Rock and Swing. So we tried to get really something special, so we got actually four of the original dancers to Munich, and it was Norma, it was Jazz, and it was Jean Villos and Ray Hirsch. And it was the first time, actually, that Jean and Norma met. And it was also, it was interesting because we got Jean out to Munich somewhere mid-90s the first time, and it was also when she met and Frankie the first time because we had Frankie and Jean together, and they never saw each other before because Jean grew up in L.A. dancing, and they didn't see the movies or something, they had no internet, no something, no videos, so she only found out about kind of the history of Limby Hop in the 90s being in Munich. And it was so great because it was Frankie's birthday and everyone was dancing with Frankie, and the last one was Jean, and they just matched up like perfect, like they have been dancing their whole life together. So this was the pre-story and now it was in 15, Norma was there and Jean picked up at the airport and Norma was, who are you? Did she like hell? She's, what? What, you're the queen of Hollywood? Whatever, who? And if you know Jean, Jean is such a super sweet and nice person. She was always nice and always, and so for like two days it was like sitting on the other side of the table and everything, like, it was like crazy. and I didn't know about it, I heard afterwards about it. Then we had the night at this theater, you know, everyone's sitting there and I had the mic and everything and then Norma was talking and then Jean was talking and Jean said, you know, we thought, you know, we're doing the Lindy Hop but we had no clue because we didn't know about the real thing that thanks to Norma, shows you, and Norma's done, boom, she got her recognition and from this one they were best buddies and the best part afterwards was at another event because Norma didn't realize Jean's last name because she was Phelps but she married Frank Velos and he was a very famous ballroom dancer and he was on the cover of Life magazine and was Velos and Yolanda and they're talking about something, oh, Norma said, she loved Velos and Yolanda and she really adored their ballroom dancing you see, Norma on the swing side but she adored the ballroom dancers and then she, yeah, he was my husband what? yeah, this is why my name is Velos and they were talking and things and it was so amazing about how this, how these things, you know, changed because, because she always had this assumption, oh, yeah, these white people, you know, they still said, no, said, hey, we didn't know, it's amazing because we thought we'd do it but you did the real thing and we didn't found out until recently and with Ray it was also cool and Ray talked about the same thing and he said, you know, we went out dancing in LA, for us it was easy because we were white but many of the black bands had a lot of trouble and so, and I said, I think Ray, you should thank Noma for everything they created, oh, yeah, so, and he went over, gave her a cheek, a kiss on the cheek and no, whoo, that's going on and for me it's so great to see because there were many, many things, you know, in history that are bad and happened but to see how these people get together and this was always our goal for everything we did, we want to get people together, we want to, we make, make the world a little bit a better place and not make it worse. Nel 2015 hanno festeggiato Robert Swing il decennale e quindi hanno avuto l'idea di chiamare Norma Miller, Jim Velos e Don Anto? No, Chess. Chess, Chess and Ray Hersch. Chess, West Coast. Chess, è il figlio di Frankie Manning, Ray Hersch è un ballerino famoso negli anni 50 nei film bianchi, ballerino bianco dei film degli anni 50. Jim Velos invece già appare nei film degli anni 40 dove si parla di swing, film bianchi, Hollywood film bianchi, dei bianchi e Jim Velos di fatto scopre tutto quello che c'era per quanto riguarda i film di Hobb degli afroamericani dei neri lo scopre proprio negli anni 90 venendo a Monaco lei non era cosciente di tutto questo cercate di immaginare una cosa che per noi italiani non è scontata siamo negli Stati Uniti c'è il razzismo la maggioranza dei bianchi non sa niente di quello che avviene nel mondo nella realtà dei neri per tutti i grandi nomi che noi conosciamo i grandi artisti di orchestra fatta eccezione per parlo di Big Ben per Duke Ellington e Ken Kelly gli altri i bianchi non li conoscevano Cicco Webb Jimmy Lansford Cal Bessie erano dei grandi i bianchi non ne sapevano niente il pubblico bianco i musicisti si tra di loro si conoscevano i neri non avevano le possibilità di emergere che avevano i bianchi era tutto un altro mondo e chiaramente la la moral majority la maggioranza di moralisti americani teneva giù tutto quello che veniva dal mondo dei neri lo cercava di tenerlo nascosto e quindi queste cose non venivano fuori quindi Jim Bess dice noi parlavamo in Lindyog l'abbiamo portato nei film di Hollywood che sono arrivati dopo Elsa Poppin che Elsa Poppin ha avuto una parentesi brevissima perché è uscito nel 1941 proprio due o tre giorni prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra sono entrati in guerra quindi è cambiato tutto quanto cioè si parla della guerra il film non importa poi figura che un film dove gli artisti e gli attori erano tutti neri quindi già aveva meno diffusione e quindi Jim Bess dice noi eravamo convinti disse mentre erano a una tavolata che avevano fatto di campanile storico ed erano Norma da una parte e Jim Bess dall'altra perché Norma diceva tu sei una balleria dentro di sé questa è una balleria di indioppo ma è una bianca quindi lascia il tempo che trova mettiamola così e quindi stava ben distanto e Jim Bess disse pubblicamente noi eravamo convinti così come poi anche l'altro ballerino Ray disse noi eravamo convinti di fare l'indioppo ma perché non sapevamo di tutta questa realtà che eravate voi ad aver creato l'indioppo e tutto quello che avevate fatto non ne sapevamo nulla e adesso non posso fare altro che ringraziare te e tutti gli altri e lì sono diventate amiche Norma sarebbe praticamente abbracciata e ha accorciato ha breviato definitivamente le distanze Ray addirittura è andato a baciare Norma per ringraziare tutto questo e qui sono diventati amici e conclude Marcos dicendo questa dovrebbe essere la realtà bella cioè portare avanti questi valori che la musica e il ballo trasmettono cioè il fatto di stare insieme dove non esiste non esistono differenze di nessun tipo il colore della pelle la religione il credo politico non ci interessa prendiamo il bello portiamo avanti il bello questi sono principi sani forti ed è sarebbe opportuno concentrarci su queste cose lasciando perdere tante cose negative che ci sono in questo momento anche nel nostro settore e apro una breve parentesi con la quale chiudiamo e vi lasciamo qualche spunto di riflessione io voglio dire qualcosa che che finiscono perché è ora è è è marcos ha detto è qualcosa buone per prendere il buone e portare il buone con noi spedere il buone e vivere in la pelle le pelle cose che sono succesi e ci sono molti buone cose che succesi so I want to say this until Norma was alive nobody dared to say something wrong or something unfair or anything because Norma was there as a direct witness of what the lady of was swing was, swing music and so on, nobody dared when she passed everybody came up and said, I'm a great master I know this, I know that listen to me because I know this and I know that and now things are changing because there are people claiming certain things that we know are not true but the new the young kids that are approaching they don't know who's telling true things or not so there is a something really I call it underground train running with these people trying to hide fruit trying to hide certain names and tell another story so what I recommend is always try to go and talk and listen to people that were there that can give you a direct testimony so things are changing so so that Norma was alive no one was able to say something of something something false about the world of the Indian because Norma was there 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 was a barriere invalicable and there was one that was not stava zitta se sentia qualcosa che non andava bene ora Norma non c'è più ed è successo quello che avevamo già preventivato sono venuti fuori diversi personaggi che dicono io sono il signor su tutto conosco tutto quanto ho fatto questo ho fatto quell'altro e ci sono tante storie che vanno in giro che non sono vere che portano poi ad un approccio negativo al mondo del ballo e della musica io lo chiamo un treno sotterraneo c'è questo treno sul quale a bordo ci sono tante persone che si stanno muovendo in questo senso e chiaramente i giovani che si avvicinano a loro non lo sanno quindi ci sono delle verità distorte quindi la raccomandazione che possiamo dare che posso permettermi di dare di andare ad ascoltare e parlare con le persone che c'erano che erano presenti negli anni passati ora Norma è stata presente fino a qualche anno fa ma abbiamo qui Chesse Whitmore che come avete sentito già dagli anni dal 67 è entrato in questo mondo e ha conosciuto tutti Marcus è entrato in questo mondo nel 1991 92 ha cominciato a conoscere cioè ci sono dei personaggi che in Europa come anche in altre nazioni sono stati presenti non solo gli ultimi arrivati e sono i diretti testimoni perché hanno conoscito questo verso quindi possono dare testimonianze dirette e a questo proposito io sto praticamente l'ho ultimato un libro che poi pubblicherò prossimamente dove ho intervistato nazione per nazione lo sto cercando di farlo in maniera sempre più ampia in Europa i personaggi più importanti per quanto riguarda la diffusione dell'indio e quindi anche quella della musica swing in Europa quindi in Germania in Francia in Inghilterra quindi cominciando dalle nazioni dove si è diffuso prima per poi andare alle ultime nazioni che sono arrivate in paesi dell'estero che sono arrivati un po' dopo quindi c'è compresa l'Italia dove io personalmente nel 95 ho incontrato l'indio qui in Inghilterra grazie a chi Simon Senn aveva incontrato Norma e tutti gli altri ad Evrang e ho cominciato a diffondere a livello culturale quanto mio prima del ballo l'indio quindi ho avuto modo di incontrare e parlare con certe persone conosco i fatti come Norma diceva you think you know but I know Norma diceva voi pensate di sapere ma io so e quindi non venite a me a raccontarmi e pulate so don't come to me to say bullshit to me because I know what we're talking about quindi questo è quello il mio consiglio I just would like work so we have a very different conversation with people when you're off work and you talk naturally so we have a real conversation real close so if you want to know something about Norma ask those people so when is your book about your time with Norma il libro lui dice personalmente Roberta e io abbiamo passato molto tempo con Norma ma abbiamo passato in maniera magari diversa rispetto ad altre persone perché non è stato un tempo cioè non abbiamo incontrato Norma per situazioni di lavoro ad un concerto ad un festival abbiamo vissuto insieme quindi abbiamo condiviso pensieri esperienze a livello familiare abbiamo creato se riuscite a creare un clima familiare con Norma quindi sappiamo anche delle cose che non diremo mai a nessuno so we even know some things we never would tell nobody Norma told us yes of course but we know we know some things from a different point of view of course than other people and lui mi ha chiesto quando scriverai il libro sulla tua relazione con Norma I will do it I will do it my time is normal my time is normal yes ok if you can't talk with us you just take the bus oh that's right you're the main guest so it's up to you to end you guys sit down you guys are part of history like Mauricio said part of history is to maintain history if you're going to know what you love the bus you go out and get it you see Norma they said she explores she left a legacy she writes about it you know and it's many experiences and like we was talking about there's certain people that are out there you were just saying I call them YouTube babies YouTube babies they learn a couple of steps and they go out and they say I'm going to teach everybody and I'm the master of dance it doesn't work that way it does not work that way if you're looking for something go to the source or go to what's closest to the source so you can learn it I seen this guy came to LA and wanted to know they came and researched and learned everything and left they got unblocked books and videos and they're leaving a legacy it's notated it's notated from the horse's mouth so you've got to learn something and I usually said when I directed Frankie 100 you know they didn't have a script I said well you've got to do a show of this magnitude you need to pull in the original people that were closest to the source of singing dancing and everything else these are the guys I wanted to pull in because they're the ones that's going to be holding the torch and holding the information and holding it so you're going to get anything get close to the source so you can know what steps where they come from why is this certain things you know so I mean that's I was surrounded around so I had no choice I was a prisoner so I had to I mean my stuff was done from shows I create shows I leave them out there I'm done and I'm still putting shows together I just have to do what was taught to me and I spit it back out my model is what learn it look at it train it experience it performance I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done dei personaggi che erano parte della storia per cercare testimonianze diverse, cioè quindi una persona che teneva a fare qualche cosa, si è mossa e ha fatto le sue ricerche. Quindi la sua raccomandazione è questa. Ora c'è la generazione che li chiama i bambini di YouTube, ti metti su YouTube, impari qualche cosina e gli dici adesso ve la insegno a tutti quanti. Non è così che si fa. Andate alla fonte, o se non è riuscita ad andare alla fonte, perché la fonte magari si è prosciugata, andate dove siete più vicini possibile alla fonte, cioè a quelli che sono stati, vicini, che si sono abbeverati alla fonte dell'eterna giovinenza e vi potranno raccontare qualche cosa di vero. Quindi studiare, ricercare, non fermarsi mai. E in questo modo quello che potete apprendere, potete poi passarlo ad altre persone. E dovete farlo. Perché è un delitto tenersi per sé queste cose, ma non generalmente per quanto riguarda il mondo della cultura. È bello donare, far sapere a tutti che cosa è successo. E questi sono insegnamenti sempre vari. Quindi ringrazio il nostro ospite speciale, Chester Whitmore, Marco Scott. Ringrazio tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Now in dinner, we get fried chicken and sweet potatoes. Maybe on pasta. No, no, no. No, 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 cheerleader. Dice, magari adesso a cena avremo il pollo fritto con le patatine forse sulla pasta. Vi ho detto, no, no, no. We don't do such things. E quindi, grazie, grazie a tutti. Swing on the Beach Festival, win the edition 2022. Norma Miller in our hearts forever. Thank you. Grazie.